Sì, siamo molto contenti, è un provvedimento molto importante che permette anche alle categorie dei giovani, del personale scolastico e del personale ATA, di avere una garanzia in più per il ritorno a scuola. Quindi molto bene, complimenti e ringraziamo gli operatori sanitari e tutti i dipendenti dell'area vasta che stanno portando avanti un'organizzazione assolutamente ottimale. Quindi non possiamo che essere qui per cercare di sostenere questo progetto ulteriore a salvaguarda dei nostri giovani, delle nostre famiglie e del personale scolastico per riprendere quanto prima e tornare alla normalità. Una campagna, quella della Regione Marche per quanto riguarda gli screening di massa, che sta continuando ma soprattutto sta funzionando per il monitoraggio. Assolutamente sì, è uno strumento importante per la tracciabilità di questo virus, quindi proseguirà chiaramente qui in Valle Foglia ma anche in tutti i punti di comuni minori dove era già stata programmata. È uno strumento molto importante, uno sforzo molto importante da parte della Regione, dell'assessore Salta Martini, di tutta la Giunta e di tutta la maggioranza. Quindi è importante che i nostri studenti partecipino a questa grande operazione per tornare a scuola in maniera sicura. Quindi siamo qui come consiglieri di maggioranza eletti nella provincia di Pedalurbino a testimonianza dell'importanza di questa operazione affinché tutti i cittadini continuino a partecipare nei punti predisposti dall'area vasta. Quindi un invito particolare ai nostri giovani studenti affinché partecipano a questo screening per tornare a scuola in sicurezza perché è bene individuare i positivi e sintomatici ed è bene che la curva del contagio caglia il più presto. L'invito, come hanno detto i miei colleghi, è quello in particolar modo rivolto agli studenti, al personale docente ATA, il primo possibile di venire a fare i tamponi rapidi per riaprire le scuole in sicurezza. Ci tenevamo invito sicuramente a tutta la cittadinanza ad aderire. Rispondo al sindaco Ricci che non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, pertanto tutti i comuni piccoli che ancora non hanno avuto questa possibilità dello screening rapido, del test rapido, è importante che si faccia. Quindi l'area vasta è uno e io rivolgo un grande ringraziamento a tutti gli operatori, è impegnato a continuare lo screening di massa anche nell'entroterra della nostra provincia di Pesururbino. Quindi l'invito è ad aderire a questa campagna promossa dalla Regione Marche e dal Servizio Sanità Assessore Saltamartini.